ciao a tutti oggi prepareremo il frappè alla banana il tempo di preparazione della ricetta e di cinque minuti circa ingredienti sono banane mature tagliate a pezzetti zucchero semolato latte freddo e ghiacci a cubetti andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per otto secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le banane il latte freddo e i cubetti di ghiaccio e azioniamo il bimbi per 20 secondi da velocità 6 aumentiamo sino ad arrivare a velocità 10 il frappè è pronto serviamolo subito frappè alla banana grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti